Possiamo cominciare puntualissimi questo webinar, quindi facciamo l'inizio serio, buongiorno e ben ritrovati o benvenuti per chi è la prima volta che partecipa al nostro webinar, grazie di esserci, grazie di investire il vostro tempo in formazione e formazione tecnica che è fondamentale, soprattutto in questo periodo sfruttiamolo al massimo. L'argomento di oggi è una carellata sul mondo degli inverter fotovoltaici di Grovat con un particolare focus sulla gamma trifase. Qualche settimana fa abbiamo fatto una bella puntata sulla gamma degli XE digitali nuovi, oggi li tocchiamo, li sorvoliamo, ma ci soffermeremo un po' di più sulla parte del mondo trifase. Come sempre le prime due o tre slide sono relative ad una presentazione per chi non dovesse averla vista nelle scorse volte dell'azienda Grovat per poi adentrarci nel merito dei prodotti. La azienda Grovat, lo ricordo, si conferma essere la terza azienda mondiale per produzione di inverter fotovoltaici, in particolare nella divisione di stringa monofase, oltre poi ad avere particolari conoscimenti sia in Europa sia all'estero per la gamma trifase e i sistemi di accumulo. Quindi come sempre il nostro ringraziamento dall'Italia alle maestranze di Grovat per questo successo direi straordinario. L'azienda è un'azienda totalmente, lo sottolineo ogni volta che tocca a me raccontare queste cose, è un'azienda totalmente automatizzata che conta alcune migliaia di dipendenti, ma in particolare io mi soffermo sempre sul dato degli ingegneri dedicate al reparto di ricerca e sviluppo, che sono oltre 200 e che continuano a permetterci di lanciare sul mercato prodotti innovativi al passo con i tempi, molto spesso all'avanguardia, che vengono altrettanto spesso presi a riferimento da altri nostri competitor nella proposta commerciale dei prodotti. L'azienda è l'unica nel comparto solare a partecipazione dell'americana Sequoia Capital, che è il più grande fondo di investimenti mondiale, che tra le varie aziende finanzia anche alcune citate in questa schermata che sono forse più conosciute per altri settori. Attualmente l'azienda con le ultime aperture è dislocata praticamente in tutto il mondo, sia con uffici sia con importer, quindi con sedi operative, sedi operative e logistiche per l'area di interesse. Nel caso dell'Italia l'azienda Grovat è presente su due sedi in realtà, Roma per tutta la parte della direzione vendite, acquisti e amministrazione, Perugia per la parte della gestione delle logistiche e delle spedizioni e il centro generale del supporto tecnico assistenza che poi delega le pratiche ai centri locali, ai CAT, suddivisi per regioni italiane. Gli uffici del marketing in realtà, un errore della slide, non sono a Perugia ma bensì sono a Roma. A Padova invece esiste la logistica nazionale per le spedizioni in tutta Italia nelle consuete 48-72 ore e poi infine da Rotterdam talvolta attingiamo per commesse particolari o sotto scorta particolari nella presa della direttrice diretta dalla produzione. Entrando nell'argomento tecnico, questa è una doverosa schermata sempre a promemoria di tutti noi di utilizzare il sito Grovat Italia, Grovat.it che è sempre aggiornato sotto il profilo delle schede tecniche, delle certificazioni, dei manuali, delle guide all'installazione, delle richieste di assistenza, dei link per la parte progettuale di configurazione, con i software di configurazione eccetera. Quindi fatene un uso smodato perché dietro c'è un lavoro che spesso è tenuto nascosto ma c'è ed è costante e quotidiano nell'aggiornamento del sito. Una panoramica sulla gamma in senso generale per i prodotti presenti per il mercato italiano. Grovat è presente con tutta la parte degli inverter monofase che vedremo fra un attimo, la parte degli inverter trifase o ad uso commerciale industriale, la parte importantissima dei sistemi di accumulo di cui abbiamo parlato in maniera importante ieri e della quale parleremo in forma molto pratica la settimana prossima con l'ingegnere Luigi Fori e poi ovviamente gli accessori quali i sistemi di monitoraggio e la piattaforma. Entriamo nel merito degli inverter. La gamma degli inverter monofase è una gamma come vedete amplissima. Nella parte superiore ho evidenziato la serie S che è ancora a listino e a catalogo. La serie S che va dal 1000 Watt, non tutti ce l'hanno, dal 1000 Watt fino al 3000 Watt a singola stringa o singolo inseguitore, in questo caso sempre dotata del sezionatore di stringa. Nella parte inferiore invece l'argomento che abbiamo affrontato, dicevo prima, qualche settimana fa, la serie X e in tutte le sue taglie, quindi dal 2,5 al 6 kW con tutti gli vari accessori e dotazioni di serie. La caratteristica che accomuna tutti gli inverter Grovat presenti in Italia, sia del mondo monofase sia del mondo trifase, è il fatto che il sezionatore DC è sempre presente, a prescindere dal modello o dagli ulteriori accessori che esso abbia, è sempre presente in tutta la gamma, quindi non è da poco avere il sezionatore lato corrente in continua già integrato. Tutte le macchine sono a firmware esclusivamente italiano, lo sottolineo perché questo è un aspetto che sembra ininfluente, ma in realtà protegge voi e chiaramente anche noi che operiamo per Grovat sul mercato italiano, ci protegge dai distributori esteri che volessero insinuarsi in Italia con i nostri prodotti. Ebbene non possono farlo perché quelle macchine non sarebbero allacciabili al gestore di rete in quanto non hanno il firmware per l'Italia con la CESERO 21 o la CESERO 16 per l'altro ambito. E poi la specifica del tool del monitoraggio che è sempre esterno, ovvero l'interfaccia di comunicazione, mentre l'intelligenza del monitoraggio è sempre a bordo macchina. Qualche panoramica sulla serie X, la serie X che è stata lanciata nel mese di ottobre del 2019, l'anno scorso, è una serie ultra compatta, vedete le dimensioni di come cambia rispetto alla vecchia serie MTLS, queste dimensioni sono uguali per tutte le taglie, da 2,5 al 6 kilowatt, è una macchina di estetica innovativa, ha uno schermo OLED soft touch, a comando soft touch ed è ovviamente installabile per ambito esterno a un grado di protezione di P65. La caratteristica che più la ha differenziata oltre all'estetica, oltre alle funzioni e alle prestazioni sono per l'appunto i 10 anni di garanzia compresi sempre di serie e oltre agli inseguitori, due inseguitori separati, gli scaricatori in classe 2 presenti. Quindi questa macchina fa sì che non sia necessario in assoluto il quadro di stringa sul lato corrente continua, quindi con un rapporto di costi molto conveniente, soprattutto se consideriamo che non è necessario l'acquisto del quadro di stringa. È una macchina, abbiamo detto, a comando soft touch da schermo, ma è anche una macchina che si predispone ad essere completamente gestita da smartphone attraverso l'inserzione di questa chiavetta che è la smart key di Grovat, che se ne compra ovviamente solo una all'installatore, che poi resta universale per tutta la gamma che è predisposta per la smart key, la quale smart key prevede di settare l'inverter direttamente dallo smartphone in locale, permette di lanciarne l'autotest e di crearne un file non editabile da poi allegare alle pratiche verso il gestore di rete per appunto la pratica di allaccio e poi permette qualche altro settaggio che abbiamo visto nella presentazione degli X o che comunque possiamo vedere poi nella serie del mondo trifase. Arrivati quindi al focus importante invece del mondo trifase, questa è la gamma attualmente presente in Italia. è una gamma vorrei dire amplissima perché se considerate che parte dal 3 kilowatt, l'inverter trifase parte dal 3 kilowatt, chiaramente molto poco usato in Italia, ma già come raccontavo qualche tempo fa, il 4, il 5 e il 6 senz'altro, cominciano ad essere usati parecchio in alcune regioni, ad esempio il Trentino Alto Adige ha molte situazioni nelle quali la fornitura viene data in trifase anche per relativamente basse potenze, vale a dire il 4, il 5 o il 6 kilowatt e poi via via salire in tutte le varie taglie fino all'80 kilowatt della serie max che vedremo fra un attimo in maniera molto più approfondita. Anche qui le caratteristiche comune, tutte le macchine, anche la più piccola, ha il sezionatore integrato, sono tutte a firmo in italiano e anche se hanno tutte l'intelligenza del monitoraggio a bordo e il tool, l'oggettino, sempre separato proprio per una questione anche di manutenzione o eventuale difettosità del solo monitoraggio, basta sostituire il tool, la chiavettina e non l'intera macchina o delle schede particolari interne, si sostituisce solo il tool. In questa parte ho inserito alcune slide che riprendono le schede tecniche pubblicate sia sui cataloghi cartacei che sul sito Grobat, per evidenziare un po' le caratteristiche principali chiaramente questa è mezza scheda, l'altra metà non ci stava ma qui ci sono le parti diciamo più tecniche per evidenziare man mano che saliamo di taglia qualche caratteristica le potenze sia di ingresso in lato continuo che sono sempre decisamente più elevate del valore nominale della macchina sia il numero di stringhe, vedete già il 3 comincia ad avere 2 MPT quindi con ciascuno una stringa in ingresso per passare poi alla gamma 711 con anch'essa due inseguitori separati sempre ciascuno con una stringa e con potenze in ingresso che cominciano ad essere decisamente elevate merito chiaramente del valore di tensione dei 1000 volt che vengono accettati sul singolo inseguitore quindi una configurazione di pannelli abbastanza ad ampio spettro salendo ancora la gamma è sul 12-15 sono tutte divise per macro famiglia da 12-15 che comincia ad avere ben 3 stringhe suddivise su 2 MPPT quindi il primo con 2 e il secondo con una stringa per un totale di 3 stringhe e la gamma che inizia adesso dal 17 a salire, 17-25 in questo caso ha ben 6 stringhe, vedete alla voce numero di inseguitori quindi 2 inseguitori per 3 stringhe cada uno quindi 6 stringhe ciascuna macchina che vediamo fra un attimo è completa di tutte le protezioni in lato corrente continua quindi in questo caso anche i sezionatori, gli scaricatori e i fusibili lo stesso vale ovviamente per la gamma, la gemella che va dal 30 al 40 kilowatt che in questo caso raggiunge le 8 stringhe appoggiate su 2 inseguitori, su 2 MPPT distinti ed infine la scheda tecnica relativa alla serie MAX da 50 all'80 kilowatt serie che vedete oltre alle potenze abbiamo detto di ingresso decisamente elevate ma il numero di inseguitori e di stringhe ora la 50 e la 60 hanno ben 6 inseguitori su 2 stringhe cada uno per 2 stringhe cada uno e la 70-80 hanno addirittura 7 inseguitori indipendenti con 2 stringhe significa avere un totale, una possibilità di 14 stringhe banalmente su un impianto da 70 kilowatt quindi se fate i conti il numero di pannelli per singola stringa comincia ad essere davvero ridotto e alla fine sostanzialmente questo può diventare una sorta di impianto quasi macro ottimizzato avendo davvero pochi pannelli per singolo inseguitore la parte delle funzioni integrate nelle macchine tutte le macchine abbiamo detto hanno la parte dell'intelligenza del monitoraggio a cui puoi abbinare il tool per poter averne il monitoraggio della produzione fotovoltaica evidentemente ma a queste macchine se andiamo ad aggiungere un accessorio in questo caso che è un meter, un sensore di corrente trifase ebbene mi permette di cominciare ad abilitare una serie di funzioni una su tutte è la export limitation ovvero la possibilità di permettete che verifico se l'audio è completamente sì, mi pare di sì la possibilità dicevo di impostare la macchina affinché non immetta mai verso energia in eccesso verso la rete elettrica le motivazioni l'abbiamo detto più volte possono essere quella di voler accendere, attivare l'impianto prima dell'arrivo del gestore di rete con il suo contatore bidirezionale e quindi voglio evitare di cedere dell'energia verso rete la quale, lo ricordo, mi verrebbe conteggiata come prelevata essendoci un contatore monodirezionale nel caso di un impianto nuovo quindi posso inibire questa cessione verso la rete o l'altro caso, un po' più tecnico è laddove ci siano dei casi, dei momenti in cui l'impianto fotovoltaico andando a derogare dell'energia incontra un valore di impedenza troppo elevato dovuto alle linee del gestore dell'enel o addirittura dell'utenza stessa le quali impedenze fanno elevare la tensione ai morsetti dell'inverter e se questa tensione, lo ricordo supera i valori della normativa C021 o C016 la macchina va in autoprotezione ebbene, se il problema fossero per l'appunto le impedenze anziché dover andare a richiedere particolari variazioni cosa che difficilmente fa della tensione dei valori al gestore si può abilitare la funzione 0 export e si evita l'immissione verso rete della potenza della corrente la quale sarebbe stata causa dell'innalzamento della tensione ai morsetti è chiaro che questi sono casi abbastanza limitati però credetemi capitano talvolta con l'aggiunta ulteriore di un altro accessorio che è lo Shine Master c'è una sorta di web server per Grovat c'è la possibilità di non solo avere altre funzioni ma anche di andare a monitorare completamente gli autoconsumi dell'azienda dell'azienda, della casa o dell'utenza in genere quindi non solo come accadrebbe con un normalissimo sistema di monitoraggio per un inverter fotovoltaico normalissimo per quasi tutti i produttori qua possiamo andare a monitorare anche la parte di autoconsumi ricavandone poi dei grafici sull'autosufficienza energetica dell'utenza, il grado di dipendenza e tutta una serie di altre funzioni chiaramente questo kit di accessori vale anche per le macchine di taglia superiore quindi la gamma anche della 17 alla 40 kilowatt è chiaro che tutto questo vale fino a che abbiamo degli impianti mediamente cosiddetti piccoli o per ambito cosiddetto commerciale quindi fino al 40, 50, 60, 70 kilowatt poi quando si comincia a salire di potenza allora subentrano altre problematiche che talvolta sono legate alle sezioni dell'intera fornitura dell'azienda e quindi non permettono più l'utilizzo di un sensore di corrente di tipo modulare come questo ma hanno bisogno di altri oggetti e per esempio questo è un oggetto è uno da noi chiamato Smart Energy Manager dalla Grovat scusate che è uscito anche questo nell'autunno scorso in Italia e sostanzialmente non è altro che l'assieme se vogliamo del meter che avevamo visto prima trifase più il web server all'interno però permette la installazione dei TA dei trasformatori amperometrici ad inserzione indiretta e quindi scavalco in questo modo il problema di poter installare che ne so una macchina da 50 kilowatt su una azienda che ha una fornitura di energia elettrica di 200 kilowatt e quindi con delle corde probabilmente da 240 millimetri quadri adesso dico un numero per dire che chiaramente non sarebbero potute entrare in un energy meter modulare ebbene questo mi permette di interfacciare la macchina ovviamente molte macchine in serie per poterne utilizzare sia la funzione abbiamo detto di zero export ma anche la parte di monitoraggio completo sugli autoconsumi dell'utenza con tutta una serie poi di altre possibilità di visualizzazione questo sta venendo molto apprezzato in particolare dalle aziende che realizzano prevalentemente impianti industriali di una certa potenza le macchine le macchine sono le in questo caso le 40 le 40 kilowatt le 1740 ho evidenziato la sezione nella quale è presente la parte di protezione quindi dagli fusibili agli scaricatori in classe 2 al sistema questo è sempre integrato anti-pid per i pannelli quindi la macchina è sostanzialmente con l'interfaccia delle protezioni sulla parte inferiore e la parte di conversione nella parte nella parte superiore ed invece entriamo nel mondo dei max ovvero lo ricordo dal 50 al 80 kilowatt il mondo dei max che è una macchina che è uscita se non ricordo male poco più di un anno un anno e mezzo fa per il mercato italiano ha riscorso un enorme successo al punto che qui non l'ho inserita ma se non sbaglio era il mese di settembre ottobre scorso il TUV tedesco l'ha classificata come miglior inverter trifase d'Europa e quindi ne andiamo ne andiamo fieri è una macchina senza nessun tasto vedete non ci sono bottoni non c'è nulla c'è solo uno schermino OLED a chiarissima visibilità che permette di vedere nell'immediatezza lo stato di funzionamento della macchina diciamo la percentuale di lavoro e gli eventuali allarmi o alert che dovessero accendersi evidentemente in colore rosso perché non ha nessun bottone perché questa macchina la si gestisce completamente in locale e da remoto da smartphone ho evidenziato anche in questa slide la sezione delle protezioni integrate che sono sul lato destro mentre abbiamo visto sulla serie TL3S erano sul lato inferiore e faccio presente qui sotto ci sono i famosi 6 o 7 inseguitori indipendenti per due stringhe cada uno quindi le famose 12 o 14 stringhe di ingresso separate sulla macchina è una macchina che si adatta non solo agli impianti tradizionali da tetti piani ma si adatta molto molto bene per esempio impianti anche irregolari proprio per il fatto di avere una moltitudine di stringhe monitorabili singolarmente e una moltitudine di inseguitori che massimizzano l'irraggiamento per singolo per singolo gruppo quindi l'abbiamo detto prima una sorta di davvero macro ottimizzazione dell'impianto stesso ed è chiaramente usata negli impianti non solo da 50 60 80 ma spessissimo sta venendo usata negli impianti da 500 kilowatt un megawatt due megawatt in multibatteria di macchina una parentesi sul sul fatto perché non vi ho raccontato che questa serie la serie max dentro ha i fusibili no non li ha i fusibili mentre la serie TL3S l'abbiamo visto prima ha anche la sezione dei fusibili ma ricordiamo ricordatevelo aveva due o tre due seguitori per tre stringhe ciascuno quindi sei stringhe ma come mai quindi la max invece comincia ad avere sei o sette inseguitori per ben quattordici stringhe non ha i fusibili ma perché ogni inseguitore quindi ogni canale indipendente ha solo al massimo abbiamo detto due stringhe sono molti i canali ma ciascuno ha al massimo due stringhe ebbene pochi pochi lo sanno ma i fusibili in realtà non proteggono da sovracorrenti che dovessero arrivare da chissà dove talvolta si pensa da sovracorrenti di origine atmosferica piuttosto che da altri misteriosi misteriose fonti in realtà i fusibili proteggono dalle famose correnti inverse tra stringa e stringa ora se ho un impianto a tre stringhe e una di esse mi dovesse andare per qualsiasi motivo in totale ombreggiamento avrei un elevato calo della tensione di quella stringa e le altre due che fanno capo allo stesso inseguitore riverserebbero la loro per differenza di potenziale la loro tensione e quindi la loro corrente sulla stringa in ombra e questa corrente sarebbe talmente supererebbe i valori nominali del pannello della scheda tecnica del pannello e andrebbe letteralmente a bruciare a colare le saldature questo per effetto del riscatamento della sovracorrente ma se e quindi e quindi in quel caso i fusibili servono proprio a proteggere questo riversamento questo sversamento di corrente ma nel caso in cui ho due stringhe le quali mediamente sono fra loro bilanciate ebbene questo fenomeno avviene ma può avvenire ma avviene all'interno di un range che è abbondantemente inferiore al valore nominale della corrente del pannello stesso perché il suo gemello non può evidentemente riversare più corrente di quello che sopporta il suo fratello gemello sull'altra stringa e quindi tutto rimane al di sotto dei valori di tolleranza dei pannelli stessi e i fusibili diventano non più necessari questa era una nota perché anche quando me la racconta me la raccontò a me l'ingegner marino fu la prima volta che affrontavo per l'appunto questo argomento abbiamo detto la macchina priva di ogni pulsante la si pilota e la si comanda e la si programma direttamente con la smart key che avevamo visto prima ovvero l'installatore che ormai alla prima seconda terza quarta installazione Grovat avrà in dotazione questa chiavetta che si tiene nel suo frugone in cantiere una volta installata e connessa la macchina inserisce fisicamente la smart key sulla porta usb con lo smartphone si connette alla sua wifi quella della smart key in locale evidentemente ed entra nella app shine phone che presenterà tutte le schermate dedicate in questo caso alla serie max con le impostazioni da dare la possibilità di parallelare le stringhe di congelare un mppt di tarare alcuni valori delle tensioni delle frequenze di realizzare non è il caso della serie max abbiamo detto per la serie x l'autotest di importare data e ora e funzioni particolari sgancia alla fine di tutto sgancia la chiavetta se la tiene in tasca e da quel momento in poi la macchina è completamente monitorabile invece da dare moto è una macchina abbiamo detto che ha oltre ad avere avuto diversi riconoscimenti anche dei brevetti legati alla parte di raffreddamento della macchina stessa proprio perché viene utilizzata e viene sempre di più utilizzata in ambienti gravosi immaginate l'installazione di qualche megawatt recente di un nostro diciamo della nostra collega degli Emirati Arabi nell'area desertica lì le temperature sono evidentemente diverse da quelle del sud Italia o del centro Italia quindi le macchine sono idonee all'installazione in ambienti molto molto gravosi abbiamo detto ancora che è possibile su questa macchina andarne a monitorare perfino la singola stringa delle 12 o 14 in base alla macchina che ho utilizzato questo lo si può fare lo ricordo lo vediamo fra un attimo sia da smartphone che da ovviamente pc o da piattaforma OSS se non ci sono fatemi dare un'occhiata a particolari domande da affrontare nell'immediato io andrei avanti con questa parte sì c'è qualche domanda quindi dunque 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 allora datemi solo allora ne metto giù alcuna al volo allora una per esempio in caso di rottura di fusibili possono essere sostituiti certo sulla serie TL3S è sufficiente aprire il cover dell'abbia visto della parte inferiore e andare a sostituire i fusibili di opportuna opportuna taglia e anche e anche per la parte degli scaricatori che non sono dei banali scaricatori a cartuccia estraibile sono un po' diversi ma sono assolutamente estraibili numeri di stringa inseguitori è scritto 2 barra 2 più 1 cosa significa corretta la domanda significa un inseguitore a due stringhe il secondo inseguitore ad una stringa per un totale di tre stringhe poi casomai anche in questi specifici casi ci possiamo sentire di persona per il resto l'audio è partita la registrazione la potete avere riceverete in automatico da una da una mail per cui io vado avanti se poi ce ne saranno altre le vediamo fra poco allora la road map e cioè ciò che sta per accadere ciò che è accaduto recentemente e ciò che accadrà nei prossimi mesi per il mondo inverter lo sottolineo perché oggi parliamo di inverter ieri abbiamo affrontato anche alcune delle novità per la parte degli accumuli ebbene quello che è successo nel 2019 attorno al dopo l'estate è il lancio che continua a fare molto rumore l'abbiamo detto ancora prima della serie digitale la serie X la gamma che va da 2,5 a 6 kilowatt abbiamo detto 10 anni scaricatori integrati schermo soft touch OLED eccetera eccetera ma nei prossimi mesi invece nei prossimi mesi si completeranno le uscite per una ristilizzazione completa ormai di Grovat non solo sotto profilo estetico ma anche e soprattutto su quello funzionale tutto in basso a sinistra la serie micro che pensate partirà da 750 watt 0,75 kilowatt fino ai 3 kilowatt questa sarà una serie evidentemente ad una ad una stringa ad un inseguitore ed è una serie che piace molto al mercato italiano piace già la serie S di stamattina ma questa ovviamente sarà nuova per tutti gli impianti obbligatori quelli del nuovo residenziale che impongono sulla base di un calcolo legato alle superfici in vista impianta eccetera una minimo di potenza fotovoltaica installabile molto spesso questa potenza sulle realizzazioni a condominio o a residence questa potenza molto spesso è sotto al kilowatt è chiaro che se non esistessero macchine sotto al kilowatt sarei costretto a montare la macchina da un kilowatt a fronte magari di pochi pannelli ebbene la serie mic da 750 watt potrà soddisfare anche quel tipo di richiesta mantenendo un grado di rendimento ovviamente allineato al massimo per quella bassissima potenza richiesta la serie X l'abbiamo già vista e invece nel mondo del piccolissimo trifase per poi a salire usciranno tutti questi modelli che vedete rappresentati la serie mid sostanzialmente che andrà dal 3 al 15 e poi dal 15 a salire fino al 40 per arrivare al max che già è uscito avrà qualche piccola novità tecnica ma sostanzialmente la macchina resterà ancora quella visto che è recentissima la serie mid in particolare avrà un'estetica vedete addirittura una dimensione addirittura della metà rispetto all'attuale gamma presente sarà ovviamente molto molto più leggera questo è a vantaggio di chi fisicamente deve installare e talvolta in ambienti non propriamente comodi ma avrà tutte le caratteristiche già viste sulla parte digitale cioè sulla parte X i schermi OLED soft touch le funzioni integrate la possibilità di monitorarne anche sulle piccolissime taglie le singole stringhe i multi inseguitori avrà un approccio completamente ormai digitale da smartphone pur potendone fare le operazioni da schermo ma la tendenza come immaginate è quella di cercare di lavorare completamente da un tablet da uno smartphone per gestire impostazioni autotest funzioni avanzate tutto quello che ci può andare dietro è una macchina che avrà dei valori più elevati di quelli attuali per consentire un ampio spettro di installazioni in termini di campi fotovoltaici ma anche adatta a quelli che saranno per adesso mi risultano abbastanza pochi quei casi nell'utilizzo di moduli di tipo bifacciale e ovviamente gli inseguitori saranno sempre molti inseguitori proprio per massimizzare il rendimento il punto di lavoro della macchina stessa per quanto riguarda la parte del monitoraggio questi già dovreste averli visti sono i tre macro oggetti per integrare il monitoraggio nelle macchine delle macchine grova fatemi solo verificare se è un messaggio di problemi di audio no perfetto e quindi partendo dalla vostra sinistra la banalissima chiavettina a usb che va inserita sulla porta usb e trasmette si aggancia alla rete wifi dell'ambiente dell'azienda della casa al centro il più utilizzato lo Shine Link perché è preconfigurato e pre-registrato quindi è sufficiente fisicamente connetterlo e aprire lo smartphone entrare nell'app digitare il seriale l'impianto è già online e sulla destra invece il web server lo Shine Master che invece si presta per impianti che cominciano ad essere quanto meno sopra i 30-40 kilowatt per poi aumentare su una o cascate di macchine fino a 32 macchine in serie ma come gestire il monitoraggio di Grovat Grovat lo ricordo tutti gli oggetti sono di proprietà e di produzione della Grovat stessa così come le piattaforme di gestione sono di proprietà della Grovat sono a totale utilizzo gratuito e si possono accedere l'abbiamo visto su da smartphone chiaramente con una visualizzazione grafica molto carina ma comunque limitata ad uno smartphone mentre si possono accedere attraverso il server.grovat che si può ottenere dal sito Grovat ci si può entrare tranquillamente con il link da lì e digitare le proprie credenziali che può darmi tutta una serie di informazioni può permettermi di scorrere i miei impianti se sto utilizzando la piattaforma per l'appunto OSS tutti i miei impianti entrare nel singolo mi permette di monitorarli per geolocalizzazione quindi per singola macro area per poi zoomare ed entrare nel singolo impianto una volta che chiaramente li ho registrati con la geolocalizzazione e mi permette poi di vedere tutti i dati della sommatoria degli impianti o del singolo impianto in vari formati grafici io in queste ultimissime slide ecco questo è un esempio tipico di scorrimento di vari impianti magari dedicati ad un installatore che mi permette di andare a vedere io come ultimissime slide mi sono permesso di inserire questa che sembra un l'ho lasciata anche in inglese vabbè comunque è comprensibile perché perché è una funzione che pochissimi sanno e sapevano mai compreso fino a un paio di mesi fa quando con un paio di clienti l'abbiamo attivata e ne sono rimasto affascinato ovvero la possibilità di proiettare spesso un'industria in particolare l'industria vuole vedere il suo impianto la sua produzione la vuole vedere nei classici schermi nelle hold di ingresso piuttosto che dislocati in vari punti una volta si utilizzavano qualcuno li ha visti gli schermi con i led con i led con le serigrafie stampigliate il mio impianto sta producendo x eccetera oggi è sufficiente avere uno schermo connesso uno schermo uno smart una smart tv e attraverso la nostra piattaforma con tre passaggi si può dal mio monitoraggio andare a creare un iframe un collegamento quindi clicco l'impianto mio del cliente tizio vado a creargli la singola pagina gli dico proiettami quante informazioni voglio nella pagina una due tre quattro cinque informazioni nella macropagina gli do conferma e mi crea un link ebbene questo link posso collegarlo sia abbiamo detto ad una smart tv dislocata sulle varie aree dell'azienda o addirittura su una pagina web del cliente stesso che ha voluto dedicare al suo impianto fotovoltaico al suo green e questo link mi permette di dovrei avercela no ce l'ho qua l'ho fatta prima mi permette di vedere l'impianto in maniera totalmente aggiornata e costante scusate è questo eccolo per esempio così lo vedo in questo modo totalmente costante costantemente aggiornato su ogni piattaforma in cui avessi voluto proiettarlo quindi è una una delle tante funzioni che esistono su OSS che basta collegarsi a noi o al centro assistenza nostro e i ragazzi che seguono la parte del software per poter farselo spiegare come accedere io direi che ho ricordato le varie piattaforme il server l'OSS o lo smartphone e con questo sostanzialmente non ho molto da aggiungere vado a vedere se c'è qualche domanda ovviamente ah ecco scusate questa era una slide che mi mancava che era un'altra tipologia di visualizzazione dell'impianto per per il cliente andiamo allora a vedere qualche domanda che dovrebbe esserci arrivata il mic è un micro inverter no il mic non è un micro inverter ma è un inverter fotovoltaico a tutti gli effetti certificato per il mercato italiano ovviamente ed è micro nel senso che è un inverter da soli 750 watt come numero ne posso montare più di uno nello stesso impianto domestico sì sì all'interno di un impianto domestico compatibilmente con le potenze è possibile montare più di un inverter fotovoltaico se l'impianto avesse un da 6 forse da 6 kilowatt potrei montare per assurdo tre macchine da due è anti evidentemente economico però sì lo si può fare poi qualcun'altro la leggiamo fra un attimo su questo vi lascio con qualche qualche immagine qualche immagine di installazione ovviamente più per ambito trifase perché la scorsa volta abbiamo visto quelle dell'ambito dell'ambito monofase serie max serie TL3S varie tipologie di impianti e realizzazioni proprio in questi giorni mi sono arrivate un paio di foto di piatti molto molto belli che pubblicheremo nel prossimo numero sia sui social che sulle presentazioni dunque io con questo vado a vedermi se si è aggiunta qualche altra domanda eccola qua allora la serie max è già disponibile sì è la stessa domanda quasi della scorsa volta sì è già disponibile assolutamente disponibile da oltre da oltre un anno ricordo che la nostra disponibilità è a Padova a Padova nella logistica nazionale di Padova o se per caso dovessimo andare sotto scorta nell'arco di poco più di una settimana siamo in grado di attingere dal magazzino centralizzato di Rotterdam della Grobat quindi i tempi sono assolutamente assolutamente ragionevoli gli inverter trifase sono predisposti per l'accumulo no in questo caso abbiamo parlato di inverter puri e semplici quindi inverter fotovoltaici certo se un domani entro una certa range per esempio entro a 20 kilowatt vogliamo aggiungere un domani un sistema di accumulo sarà fattibilissimo con il sistema retrofit spa che abbiamo visto proprio ieri per il trifase abbinato poi alle proprie batterie in alta tensione quindi sì si può montare oggi un inverter e domani integrarlo con l'accumulo o per assurdo montare oggi un ibrido trifase per integrarne solo le batterie un domani è abbastanza indifferente se non che la differenza economica forse conviene risparmiarla oggi per affrontarla un domani che poi la tecnologia probabilmente fra un anno o due anni sarà ulteriormente ulteriormente cambiata per la parte degli accumuli allora un'altra cosa legata a un signore che ha provato la funzione ok mi dice devo del monitoraggio a blocchi non è proprio la modificherete guardi su questo la invito a contattare può scrivere direttamente a Giovanni Marino sotto chiocciolagrovat.it il quale girerà la richiesta immediatamente a RMA3 che è la divisione che si occupa delle piattaforme di monitoraggio che la contatta e le dà esattamente la possibilità di entrare a quello che le ho fatto vedere poco fa ovvero ad una visione per esempio di questo tipo o dell'altro tipo quindi io adesso non vedo altre domande aggiungersi quindi ringrazio il numero elevatissimo anche di oggi di partecipanti vi diamo appuntamento a domani se non sbaglio con un webinar dell'ingegner Gianni Marino e la settimana prossima con Pierluisi Fori relativo alla parte dello storage nel concreto nell'impostazione nelle schermate di impostazione e di connessione della macchina vi ringrazio e qualsiasi dubbio non esitate a scrivere sia attraverso questa piattaforma o direttamente agli indirizzi di Grovat e vi risponderemo nell'arco di davvero qualche giorno grazie ancora e buon lavoro a tutti grazie a tutti grazie a tutti